28 corsisti al lavoro per conservare, catturare e archiviare il patrimonio storico e umano di Atena Lucana. La città valdianese si prepara una due giorni all'insegna dell'arte, tra fotografia, grafica, musica e cibo. Si parte venerdì 8 settembre con la presentazione della rivista Spasa e l'inaugurazione della mostra dallo stesso titolo. A questo laboratorio hanno lavorato nel mese di luglio vari studenti, diversi sia per formazione che per provenienza geografica, che hanno cercato e archiviato una consistente quantità di materiale, tra fotografie, documenti, interviste e video, e che sono stati poi raccolti nella rivista che verrà presentata venerdì 8 nel centro storico. Il 9 settembre, invece, sarà la volta di Inventario, una mostra a esito della residenza di 12 studenti dell'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Urbino, tenutasi tra luglio e settembre. Il lavoro si è concentrato sul censimento del patrimonio materiale del centro storico, fotografando strade, vicoli, case e spazi pubblici di Atena Lucana, e che ha prodotto 3.500 oggetti digitali che entreranno a far parte dell'archivio di comunità. La serata di sabato proseguirà con film in bottega, una videoinstallazione del Toco Film Festival, e con maledetta discoteca, il DJ set curato dai ragazzi del Fritz Festival. Durante le serate, inoltre, degustazione di piatti poveri a cura del Comitato Festa di Atena Lucana.